buongiorno ragazzi questo è un video che secondo me vi aprirà la mente e rispondo alla vostra diciamo alla mia domanda e alle vostre perplessità ma perché io fino a quando avevo 16 anni ho usato tranquillamente i gradi e poi a un certo punto in fisica mi fanno usare e forse anche in matematica mi fanno usare i radianti mi dicono che i gradi sono sbagliati la risposta è molto semplice perché se incontrassi un alieno che viene da venere non saremmo d'accordo sul fatto di usare i gradi ma saremo d'accordo sul fatto di usare i radianti so che sembra l'esclamazione di un pazzo ma è la verità nel senso che i gradi che sono 360 sono nati in quanto i giorni che sono in un anno sono circa 360 quindi era molto comodo per i navigatori nell'antichità dividere il cielo in 360 parti e un trecentosessantesimo di questa parte di cielo chiamarla chiamarlo grado e quindi osservare il movimento delle stelle il movimento apparente delle stelle per sapersi orientare punto su venere i giorni sono 116 e quindi avrebbero diviso il cielo in 116 parti e il grado l'avrebbero per loro sarebbe stato un centosedicesimo del dell'angolo giro e quindi ogni pianeta ha i suoi gradi questa cosa fa abbastanza ridere la domanda è ma c'è un'unità di misura o una grandezza diciamo universale su cui se ci incontriamo con un venusiano con un marziano siamo d'accordo la risposta è sì sono i radianti posso comunque definire come un angolo solo che li cambia sotto l'unità di misura perché ragazzi se io prendo anche due cerchiette uguale e traccio un angolo questo è il mio angolo in radiante ovviamente io ho percorso un certo spazio per andare da qui da questo punto iniziale a questo punto finale che cos'è il radiante come viene definito ma il radiante è il rapporto tra lo spazio percorso quindi l'arco che ho percorso diviso il raggio è semplice è un rapporto tra due lunghezza se viene un marziano è d'accordo su questo fatto nel senso che per lui il rapporto tra l'arco e il raggio verrà un numero adimensionale che chiamiamo radiante ma la cosa bella è che l'angolo è indipendente dalla circonferenza che noi prendiamo perché se noi prendiamo una circonferenza più grande nel senso che l'angolo sarà uguale a quello di prima ok questi due numeri cambieranno nel senso che delta s sarà più grande ed il raggio sarà più grande rispetto a prima però il rapporto no e questo ragazzi la cosa importante che io potrei prendere anche circonferenze molto più grandi però sotto lo stesso angolo il rapporto tra l'arco che si crea ed il raggio verrà sempre lo stesso numero e questo numero è l'angolo in radianti basta è finito qua il ragionamento dei radianti è un modo intelligente per definire un angolo il rapporto tra l'arco tra la lunghezza dell'arco e il raggio ovviamente l'arco sotteso a quell'angolo lì e uno dice sì ma allora non ho capito come si fa calcolare ma è semplicissimo in realtà è semplicissimo perché noi sappiamo quanto è lunga la circonferenza e poi finita lì nel senso che se noi prendiamo se disegniamo una circonferenza e ci chiediamo quest'angolo qui quanto vale ma un pollo direbbe 360 no se ragiona ancora in gradi però adesso con questa definizione qui quanto vale quest'angolo qui diciamo quello che anticamente diciamo l'ex 360 gradi quanto vale e vale tutto l'arco sotteso a quest'angolo che è tutta la circonferenza diviso il raggio e vado avanti ragazzi qual è la formula della circonferenza 2 pi greco r r ed r si semplificano e quindi ottengo che quello che anticamente ho sempre chiamato 360 gradi in realtà corrisponde a 2 pi greco radianti quindi come faccio passare dai gradi e viceversa con una proporzione nel senso che se so che dire 360 gradi è come dire 2 pi greco radianti allora so anche dire che 180 gradi corrispondono a pi greco radianti e 90 gradi ancora la metà pi greco mezzi radianti ragazzi pi greco intendo proprio 3,14 e allora invece come si fa se vi chiedo che cos'è un radiante questo è interessante perché nessuno ci pensa mai ragazzi cosa vuol dire un radiante perché dalla definizione se questo fa 1 non significa che delta s ed r fanno 1 questa va bene a cavolata significa che delta s è uguale ad r cioè un radiante è un angolo molto speciale per cui il raggio è uguale al valore dell'arco cioè io devo prendere un arco che è lungo r e quindi c'è un preciso angolo per cui succede questa cosa qua ed è esattamente un radiante e come faccio ad esempio allora trovare quanto vale in gradi un radiante e devo fare una proporzione quale mi piace di più ma ad esempio prendiamo questa che mi piace tanto e allora dico 180 gradi sta a pi greco radianti come boh questo non lo so x sta ad un radiante quindi quant'è quell'angolino lì che più o meno boh sembra 60 gradi no allora proporzione x uguale a allora devo fare 180 gradi per un radiante quindi gli estremi fratto in medio pi greco radianti semplifico radianti con radianti e viene 180 diviso 3 punto 14 15 adesso davvero pi greco lo tratto come un numero quindi se io faccio 180 diviso 3 punto 14 15 viene 57 punto 297 possiamo dire quindi ragazzi radiante anche se sembra una cosa molto pesante è la definizione naturale di ciò che può essere un angolo il rapporto che c'è tra l'arco creato da quell'angolo lì ed il raggio e la sua unità di misura è il radiante è filo iscrivito è è Grazie.